Dunque, abbiamo studiato quindi uno dei poemi epici dell'Europa settentrionale, il Beoful, del popolo anglosassone, scritto per la prima volta in volgare, volgare anglosassone. Abbiamo detto anche che non fu l'unico, mi vennero scritti molti altri di poemi epici di quel genere, come la canzone dei Nibelunghi, per quel che riguarda invece l'area più germanica, un'area più germanica, l'anglosassone, il popolo anglosassone invece riguarda la Britannia. E poi abbiamo anche accennato al fatto che furono scritti anche delle chansons de geste, che sono poemi leggermente diversi da quelli che abbiamo appena finito di studiare. Le chansons de geste, anzitutto, compaiono tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, in Francia soprattutto. La Francia all'epoca non esisteva, esisteva il regno dei Franchi, chiaramente. Si stava iniziando a sviluppare, nell'undicesimo e nel dodicesimo secolo, uno stato moderno che poi avrebbe preso la forma che noi conosciamo oggi e il nome di Francia. Comunque a noi ci interessano questi testi, queste chansons de geste, che alla lettera, cosa significa? Le canzoni di gesta. Erano scritte in volgare, un volgare particolare che si chiamava Lingua d'Oil, ricordatevelo, Lingua d'Oil. L'Oil è il nome che in italiano si traduce con Si, la lingua d'Oil, la lingua del Si. Per differenziarla poi dalla lingua d'Oil, che è invece il volgare della Francia del Sud. Esistevano queste due lingue scritte in quella che noi oggi chiamiamo Francia. La lingua d'Oil, che era quella tipica della Francia del Nord, e la lingua d'Oil, che era quella della Francia del Sud. E sono tutte e due, due lingue molto importanti per la storia della letteratura italiana anche, perché vedremo che influì e influenzò molto anche i primi scrittori italiani questo tipo di lingua. La lingua d'Oil è l'antenata del francese moderno. La lingua d'Oil, che invece è una lingua che ormai non si parla quasi più, ed è la lingua tipica della Francia del Sud, della Provenza, che sarà fondamentale, poi lo studieremo, per lo sviluppo della letteratura italiana. Però in questo momento noi stiamo parlando della Francia del Nord e della lingua d'Oil. La lingua è volgare, quindi assolutamente non in latino e non nella lingua latina, con cui venivano scritte queste chansons de geste. Chansons de geste, canzoni di gesta, vi fa già capire il titolo, che cosa sono. Sono canzoni, perché inizialmente, esattamente come i poemi cavallereschi, epici cavallereschi, che abbiamo già studiato, erano tramandati oralmente, addirittura cantati, canzoni. E qual era la materia di queste canzoni? Era e fondamentalmente si venivano e si incentravano su Carlo Magno. Carlo Magno, che forse riusciremo a studiare quest'anno, il grande imperatore che aveva dato vita al Sacro Romano Impero nel X secolo, fondamentalmente, scusate, nel IX secolo, quindi a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento. Lui verrà nominato imperatore la notte di Natale dell'Ottocento d.C. Quindi queste canzoni si incentrano su Carlo Magno e sui suoi fedeli conti paladini. Palatini erano, dei palazzo, che poi prenderanno il nome di Paladini. Quindi la base di queste narrazioni è esclusivamente storica, diversa quindi da quella leggendaria di Beofullo, del canto dei di Belunghi. Perché Carlo Magno è un personaggio storico realmente esistito, quindi c'è un fondo di realtà storica dietro a queste opere letterarie, a queste canzoni. Anche se comunque non vi è nessuna fedeltà storica. Cosa vuol dire questo? Che la materia è realistica. Ma le vicende del passato sono trasfigurate in una luce leggendaria. Cioè cosa vuol dire che Carlo Magno è un personaggio storico e di cosa parla? Ad esempio la più famosa delle chanson de geste che è stata mai scritta è la chanson de Roland, ovvero la canzone di Orlando, di cui leggeremo il testo. La canzone di Orlando parla di un'imboscata a cui il grande paladino Orlando, uno dei più grandi cavalieri di Carlo Magno, è caduto in questa imboscata ad opera degli arabi musulmani. Ed è morto perché durante questa imboscata i musulmani sono riusciti a ferirlo. Uno dei temi principali di questa canzone è la lotta che avviene tra i cristiani e i musulmani. Ora il problema qual è? E perché si ricollega al concetto della storia? Perché Carlo Magno è un personaggio storico, Orlando è un personaggio storico. Però la rivalità tra cristiani e i musulmani non è un fatto storico. Perché? Perché in realtà la chanson de geste, vi ho detto, essere stata scritta, questa in particolare, quella di Orlando, tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo dopo Cristo. Quindi tra il 1000 e il 1200 dopo Cristo. Questi sono i due secoli entro cui vengono scritte le chansons de geste. Però Carlo Magno è vissuto nell'Ottocento, quindi due secoli prima almeno rispetto a quando vennero scritte. Quindi questo ci fa capire che chi ha scritto la chanson de geste nell'undicesimo secolo e nel dodicesimo secolo le scriveva con la mentalità che lui aveva. E nell'undicesimo e nel dodicesimo secolo e anche nel tredicesimo secolo c'erano le famose crociate, cioè le battaglie, le guerre tra cristiani e musulmani per la conquista di Gerusalemme, della Terra Santa. Quindi esisteva una guerra costante tra cristianità e musulmani. Quando lo scrittore andava a scrivere, a riportare per scritto le chansons de geste che venivano tramandate oralmente, le scrive secondo la sua mentalità, che non era la stessa di Carlo Magno, perché Carlo Magno aveva ottimi rapporti tra l'altro con gli arabi, ottimi rapporti. Quindi cosa vuol dire questo? Che la base è storica delle chansons de geste, c'è una base di fondo storica, perché ci sono dei fatti realmente accaduti e personaggi storici. Beofull non è un personaggio storico, è un personaggio leggendario, Carlo Magno è un personaggio storico, però non è storica la materia scritta, non è storica la mentalità, non è storico l'evento, perché abbiamo appena detto che Carlo Magno aveva ottimi rapporti invece con gli arabi. Quindi tenete d'occhio, quando leggete la chansons de geste, questa diacronia, quindi uno sfasamento temporale, da quando è stata scritta, undicesimo, dodici, tredicesimo secolo, e la materia trattata, che invece risale a nono secolo dopo Cristo. Quindi, questo non era intenzionale, chiaramente, cioè lo scrittore non è che intenzionalmente pensava che Carlo Magno doveva avere brutti rapporti con gli arabi, era proprio la mentalità del dodicesimo secolo, dell'uomo che si accingeva a scrivere, che pensava che i rapporti tra cristiani e musulmani fossero sempre stati come lo erano in quel preciso momento, cioè un rapporto di conflitto. In realtà non è stato così storicamente, quindi in questo senso i personaggi sono storici, ma la materia trattata a volte in determinati punti non è storica, non si rifà a una storicità veritiera. Quindi, questo che cosa vuol dire? Che ciò che noi leggiamo, quando leggiamo le chansons de geste, riflette la società non di Carlo Magno, ma riflette la società del contemporanea che scriveva, quindi è quella dell'undicesimo e del dodicesimo secolo. E chiaramente la realtà dell'undicesimo e del dodicesimo secolo era diversa rispetto a quella di Carlo Magno. Era la realtà del feudalesimo, di questa frammentazione territoriale gigantesca che dominava in tutta Europa. Non c'era un centro forte, unito. Pensate all'impero romano, quando era ancora grande. Non esisteva un'autorità definita, centrale, uno stato moderno. Esistevano i feudi, cioè tantissimi territori con castelli in cui il signore la faceva da sovrano. Era un po' il piccolo re del suo piccolo territorio. Mancava un re che riunisse tutti i feudatari, cioè i proprietari dei castelli e dei feudi. L'Europa era totalmente frammentata in questi piccoli territori. Poi lo studieremo, o lo studierete meglio, a storia, il prossimo anno, quando capirete che cos'è il Medioevo. Diciamo che quindi la chanson de geste, scritta in quest'epoca particolare, riflette quindi questa società feudale, non la società di Carlo Magno. E il pubblico a cui si rivolgevano queste chanson de geste era proprio il pubblico dei feudatari che avevano a corte cavalieri e un'aristocrazia non particolarmente colta, però che si dilettava a sentire storie come quelle, che avessero quali tipi di contenuti fondamentalmente. Quali erano i contenuti tipici della chanson de geste? L'essere dei buoni cristiani, quindi essere virtuosi, giusti, fedeli a Cristo, e dei buoni servitori del Signore, del Re in questo caso, del feudatario, del padrone, quindi un legame di lealtà tra il Signore e il Cavaliere. Questi erano i due temi principali delle chanson de geste che andremo poi ad analizzare leggendo la chanson de Roland. Quindi, generalmente quando analizziamo un'opera bisogna parlare chiaramente del pubblico per capire a chi viene rivolta un'opera, è importantissimo sempre capire a chi viene rivolta la propria opera perché chi scrive, quando scrive, scrive per far leggere e per intrattenere un pubblico particolare. E intrattenere un gruppo di aristocratici non era come intrattenere un gruppo di contadini. Quindi la società che viene fuori dalla lettura di questi testi è la società che corrisponde al pubblico che vuole essere intrattenuto su quegli argomenti. Questo è un tema un po' complicato che poi approfondiremo meglio più avanti, magari in classe. Quindi il pubblico è importantissimo nella ricezione dell'opera. Poi è importante il contenuto, e ne abbiamo parlato a grandi linee, e poi lo scrittore. Queste opere, le chanson de geste, erano anonime. Noi non abbiamo nomi di scrittori che hanno firmato queste opere. Ci sono giunte anonime e ipotizziamo che gli scrittori possono essere stati o i giullari, come al solito, di cui abbiamo già parlato, questa figura che, a seconda del grado di cultura che aveva, non dovete immaginarvi il buffone di corte quando pensate al giullare. Esistevano dei giullari estremamente colti che dovevano intrattenere i re, i feudatari, i signori, i principi, i marchesi, i duchi, con le storie, proprio con queste chanson de geste, ad esempio, oppure degli amanuenzi, ovvero dei monaci a volte, che abitando la chiesa sempre di più durante questa epoca di frammentazione politica, la chiesa mantenne intatta e integra la cultura. La cultura circolava soprattutto attraverso la chiesa e può darsi che autori di queste chanson de geste siano stati anche dei monaci. Ok, quindi, queste sono più o meno le caratteristiche che dovevano avere le chanson de geste, tematica storica con la problematica di cui vi ho parlato. contenuti il buon cristiano e il buon servitore, pubblico la classe feudale, l'aristocrazia, la cavalleria dell'undicesimo e del dodicesimo secolo, quando queste opere vennero scritte, e gli scrittori anonimi che possono essere il giullare o i monaci. e gli scrittori anonimi